Salve, buongiorno e grazie ancora per ritrovarci questa volta sulle frequenze di 6TV che voglio ulteriormente ringraziare per questa disponibilità che sta dando a me, ma a tutti i candidati in regime di par condicio di poterci presentare e quindi rappresentare al meglio le nostre idee che devono essere per quanto mi riguarda il tema su cui noi ci dobbiamo confrontare e con il quale dobbiamo cercare di avvicinare i cittadini di battipaglia perché la politica deve tornare ad essere innanzitutto confronto e non scontro e soprattutto deve tornare ad essere un qualcosa che parli di progetti, di idee. Non a caso in queste ore, mentre noi siamo qui a rappresentare il nostro progetto che si compone principalmente di 5 idee per 5 anni, ho lanciato un appello anche ai movimenti, alle liste, ai gruppi che in qualche modo alla fine non si sono presentati alle elezioni prossime venture del 5 giugno a non far cadere nel vuoto le proprie idee e le proprie iniziative e mi sono detto già disponibili a raccogliere quelle migliori, quelle che sono state messe in campo per il bene comune di questa città e a farle vivere e realizzarle nel momento in cui io dovessi essere chiamato dai cittadini di battipaglia ad avere l'onere e l'onore di rappresentare questa nostra magnifica città. Detto ciò voglio entrare subito nel merito della nostra proposta. La nostra proposta che è in campo da oltre un anno. Ricordo che Astago con un nuovo inizio ha avviato questa campagna di avvicinamento alle elezioni attraverso una grande iniziativa che è stata la campagna di ascolto con una conferenza stampa alle scuole di Amicis dove abbiamo annunciato e abbiamo poi di fatto svolto una campagna di ascolto sui canali social, lo abbiamo fatto in radio, lo abbiamo fatto per piazza, nelle piazze e abbiamo così raccolto, messo insieme, toccato con mano e se ce ne fosse stato ancora una volta bisogno abbiamo ascoltato la carne viva di chi vive e lavora in questa città. Da quella esperienza viene fuori quello che noi in sintesi abbiamo rappresentato con il compendio delle 5 dei per i 5 anni. Abbiamo detto da subito aboliamo i programmi elettorali perché rappresentano solo delle formalità, rappresentano un vecchio modo di dire tutto il contrario di tutto, di scrivere 30 pagine di copia in colla, ma alla fine voglio dire l'elettore si perde tra le righe del libro dei sogni e il politico molte volte ne approfitta per nascondere all'interno questioni e situazioni che rese più chiare lo metterebbero di fronte ad una grande responsabilità ed un impegno certo. Noi abbiamo voluto proprio questo, la responsabilità, l'impegno certo, il fatto di essere riconoscibili, visibili e di essere misurabili. Allora 5 dei per i 5 anni con una premessa. Qual è la premessa? È quella di una governance egua e solitaria. Noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo applicato in modo semplice e lineare il concetto del buon padre di famiglia. Vedete, per fare il candidato a sindaco come per fare qualsiasi altra cosa in politica basta applicare un principio molto semplice, quello del buon padre di famiglia. E allora abbiamo come premessa detto il sindaco e gli assessori devono prendere una parte del proprio compenso previsto per legge e destinarlo ad un fondo che abbiamo voluto chiamare di solidarietà e sviluppo, che servirà per dare delle risposte immediate alle tante emergenze, alle tante urgenze che puntualmente si presentano ad un sindaco, ad un'amministrazione. Quindi la prima cosa che noi faremo è istituiremo questo fondo con una parte dei compensi che spettano al sindaco e agli assessori. Poi siamo entrati nel merito di 5 proposte. Queste proposte vanno sotto il nome del Parco Urbano del Castelluccio e del Tusciano, di investi a battipaglia, di marketing territoriale, di riqualificazione dell'ex sati e di una città europea sempre più green. Che cosa vuol dire? Il Parco Urbano del Castelluccio e del Tusciano ci sembra una cosa talmente naturale, scontata per una città che ha voglia di verde, di ambiente, di vivere il suo territorio. Per cui c'è risultato anche facile immaginare di seguire l'alvio del Tusciano che arriva a mare e di realizzare sulle due sponde del fiume, visto che abbiamo 18 metri da un lato e 18 dall'altro di aria già di proprietà demaniale, una pista biking e running che possa portare i cittadini di battipaglia, sia quelli che praticano lo sport, ma sia quelli che la domenica vogliono andare con i figli al mare con la bici in totale sicurezza. Quindi una sistemazione naturale dell'alveo e praticamente arriviamo così in sicurezza al mare e costruiamo forse il percorso biking e running più bello che sicuramente ritroveremo in Campania e in provincia di Salerno. Il progetto investi a battipaglia, questa è una misura altrettanto semplice che riguarda l'occupazione perché come diceva Furio Colombo il politico non può promettere, se promette non può mantenere, soprattutto se promette posti di lavoro e allora questo lo possiamo fare se noi creiamo le condizioni, cioè la politica non dà posti di lavoro, crea le condizioni affinché gli imprenditori vengano ad investire sul nostro territorio. Abbiamo chiamato questo progetto investi a battipaglia, abbiamo immaginato di poter utilizzare l'unica leva che un sindaco o un'amministrazione ha che è quella dei tributi comunali, abbiamo detto agli imprenditori se tu vieni a investire sul nostro territorio per 5 anni non puoi pagare tasse, come non paghi tasse, non le paghi perché noi diamo un valore di N percentuale X per ogni assunto di battipaglia, per ogni battipagliese che metti a lavorare o ti faccio uno sgravio del 10%, va da sé che se ne assumi 10 arrivi al 100% e per 5 anni non paghi tasse a battipaglia, così secondo noi si crea occupazione sana e si portano gli investitori ad investire sul nostro territorio. Il progetto di marketing territoriale è ancora più semplice, noi abbiamo delle grandi eccellenze, la prima fra tutte la mozzarella, poi la quarta gamma, poi una serie di prodotti agroalimentari favolosi che ci invidiano in tutto il mondo, li dobbiamo tutelare con un marchio di qualità che deve consentire ai nostri prodotti di andare sul mercato ad un prezzo diverso, fare più margine, guadagnare di più, guadagnano di più le imprese, guadagnano di più le famiglie e gli uomini e le donne di battipaglia che lavorano in queste imprese e quindi una maggiore ridistribuzione della ricchezza sul territorio. Un altro punto importantissimo, corro perché il tempo è tiranno, la riqualificazione delle exati, bene, dobbiamo recuperare il progetto che già era visionario della battipaglia sviluppo S.P.A. che io ho avuto l'onere e l'onore di presiedere e con orgoglio dico realizzare lì il centro direzionale della Piana del Sele. Quello che volevamo fare è che qualcuno non ci ha fatto fare perché forse per la prima volta in questa città si era immaginato un intervento urbanistico che prevedeva il teatro, l'anfitreato, il museo, gli uffici, i parcheggi interrati, non certamente altre abitazioni che non servono in questa città. L'ultimo punto, la città europea green. Dobbiamo immediatamente in questa città mettere in campo un progetto che valorizzi i rifiuti, dobbiamo fare arrivare l'alta velocità fino a battipaglia, la metropolitana leggera non si deve fermare a Salerno ma deve arrivare fino a battipaglia e da ultimo non da ultimo immaginare un nuovo svincolo autostradale battipaglia sud e boli nord che vada nella zona industriale perché quello che c'è già è pieno, già ingolfato e deve servire come porta per il cilento e per i turisti che vogliono andare nelle località che teniamo di mare belle della nostra costiera e della fascia ritoranea. Abbiamo alla fine di queste cinque idee per cinque anni, come già annunciato, detto un'altra cosa che è innovativa e rivoluzionaria, mai nessuno prima di noi l'aveva fatto. Noi annunceremo, io come sindaco annuncerò, presentate le liste che abbiamo fatto in queste ore, prima del voto la squadra di governo. Io dirò con Vincenzo Inverso Sindaco chi sono i sei assessori, una squadra di governo che sarà espressa per competenze, non per appartenenze, quindi le migliori energie anche di alcuni uomini e donne che non mi votano ma sono importanti e hanno caratteristiche professionali e tecniche che possono far crescere e migliorare questa città. Per fare che cosa? Per presentare ai cittadini un progetto trasparente dove non ci sarà niente da nascondere, voi prima del voto saprete tutto, programma, sindaco, squadra di governo, così potete legittimarci e con il vostro voto darci la forza per cambiare davvero battipaglie.